Abbiamo sentito la presentazione di tutte queste stazioni sciistiche, se dovessimo metterle in fila una dopo l'altra non ci basta una stagione? No, perché abbiamo 13 stazioni sciistiche per la discesa, 11 stazioni per il fondo, quindi direi che in provincia di Cuneo c'è l'imbarazzo della scelta. Ci sono le stazioni grandi, ci sono quelle più piccole, ci sono quelle che hanno dei costi un pochettino più alti, anche se abbiamo visto che i prezzi sono calmierati uguali a quelli dell'anno scorso, quindi non sono aumentati. Ci sono le stazioni più piccole che costano meno, quelle dove non si fa mai la coda e tutte però hanno un luogo comune, che la neve è sempre bella, che tutte apriranno il 7 di dicembre e che abbiamo dei battitori di piste che sono veramente in gamba. Fine anno è un po' tempo di consuntivo su come è stata la stagione, su prospettive per l'anno nuovo. Anno, direi, positivissimo e le prospettive per quello nuovo? L'anno si chiude alla grande, è andata bene per una serie di motivi e di concomitanze, qualcuno ha merito nostro, qualcuno no, ma comunque dobbiamo sorridere. Per il prossimo anno, io direi che se il buongiorno si vede anche qui dal mattino, le prospettive sono molto buone. Avremo una serie di eventi straordinari che porteranno tante presenze in quei momenti un pochettino più difficili, i mesi di aprile, maggio, giugno e settembre. La campagna di promozione sull'outdoor per l'estate sta dando dei risultati di riscontri fortissimi in Italia, ma soprattutto in Germania, nel mercato di lingua tedesca in generale. E per quanto riguarda la neve, noi contiamo di avere quel mese difficile, quello che va dall'8 gennaio alla prima settimana di febbraio, che quest'anno sarà foriero di risultati felici perché siamo riusciti ad attivare una serie di settimane bianche in quello che era il momento più difficile. Quindi io penso che se il 2013 si chiude bene, il 2014 partirà meglio.